Il 28 ottobre si avvicina, le elezioni sono ormai alle porte. Tra i sette nomi proposti dal Partito Democratico per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, onorevole Vincenzo Marinello, c'è anche il suo, a sostegno del candidato presidente Rosario Crocetta. Prima di iniziare questa nuova avventura in corsa per la quindicesima legislatura, è opportuno tracciare un bilancio di quelli che sono stati i suoi cinque anni spesi sul territorio siciliano, ma anche sul territorio della provincia di Agrigento. Lei ha ricoperto degli incarichi di rilievo, degli incarichi di spessore, quali sono stati questi suoi incarichi? Io sono stato componente della commissione terza alle attività produttive, nonché componente della commissione regionale antimafia preseduta dal collega onorevole Lillo Speziale. Devo dire che nella commissione attività produttive abbiamo prodotto norme importanti che riguardano il settore dell'agricoltura, della pesca, dell'artigianato, in particolare per esempio abbiamo fatto la riforma della Camera di Commercio, abbiamo fatto la riforma per quanto riguarda il credito agevolato nel settore della filiera agroalimentare. Questa è un'iniziativa legislativa di cui sono stato presentatore del primo firmatario di un apposito disegno di legge che poi è divenuto legge nell'ultima finanziaria, nella 26 del 2012, che tra l'altro prevede l'abbattimento del 70% del tasso di interesse, quindi circa 3 punti percentuali con una procedura di snellimento. Ma ancora prima avevo presentato un apposito disegno di legge che riguardava l'istituzione del medio credito Sicilia, accorpando le competenze della CRIAS, dell'IRFIS e dell'IRCAC. Successivamente, avendo compreso che c'erano delle difficoltà oggettive all'interno del Parlamento per poter evarare questa riforma, in un momento di grande difficoltà delle imprese agricole, delle imprese della pesca e della filiera agroalimentare, ci si è resi conto che era opportuno snellire il procedimento e stralciare una parte del disegno di legge per cercare di calarlo nell'ultima legge finanziaria, cosa che è stato fatto. Oggi è legge della Regione, in fase di attuazione sono già i regolamenti, perché le competenze sono state affidate all'IRCAC, non solo per le imprese sotto forma cooperative, ma per qualsiasi natura di imprese. Quindi tutte le imprese della filiera agroalimentare hanno questa opportunità per quanto riguarda la capitalizzazione societaria, per quanto riguarda il ripianamento dei debiti, per quanto riguarda il rilancio dell'attività imprenditoriale, degli strumenti importanti che certamente potranno aiutare. Veda, io ho curato anche poco l'apparire in questi anni, ma molto l'essere. Nell'attività legislativa ho cercato di promuovere alcune iniziative legislative importanti, oltre questa norma che riguarda la filiera agroalimentare, ho promosso attraverso un emendamento, ho rimpinguato delle risorse che erano andate in perenzione per quanto riguardava una vecchia legge, la legge 33 del 98, in particolare per il settore della pesca, per i pescatori siciliani, circa 26 milioni di Euro sono state destinate alle famiglie siciliane, la cosiddetta norma che è impropriamente chiamata sulla calamità naturale, ma di fatto è la norma di aiuto in caso di riduzione dell'attività di pesca. Settori economici importanti della nostra provincia e della nostra Sicilia, cercando di dare risposte concrete in un momento di grande difficoltà. Ma uno degli atti parlamentari importanti che sono stato primo firmatario è stata una mozione per quanto riguarda l'abbattimento del costo del gasolio, per quanto riguarda le norme sulle accise. Considerato che in Sicilia si raffina oltre il 40% della produzione nazionale del nostro Paese, io mi sono chiesto una domanda, come mai nelle zone trasfrontaliere, in particolare della Valle d'Aosta, il centino attuatico del Friuli, Venezia e Giulia, c'è un abbattimento dei costi delle accise, in Sicilia che raffiniamo questo greggio non abbiamo nessun abbattimento. Lì, ahimè, ci siamo dovuti impantanare rispetto a quello che è una norma statutaria, considerato che c'è un fondo di perequazione nazionale, a differenza dei nostri costituenti che fecero lo Statuto della Regione Sicilia, che venne prima della Carta Costituzionale, è stato oggetto di trattative di mediazione, rinviata da oggetto di trattative di mediazione tra lo Stato e la Regione. Secondo me una cosa importante che bisogna riprendere con forza nell'ambito del cosiddetto federalismo fiscale è quello di avocare a noi la possibilità di utilizzare queste risorse delle accise, che sono qualcosa come quasi 9 mila miliardi di euro, cioè 18 mila miliardi delle vecchie dire, che basterebbero soltanto queste risorse per cercare di programmare seriamente l'economia della nostra terra di Sicilia, la nostra terra di Sicilia dove abbiamo il sole, il mare, i beni culturali, il nostro patrimonio dei beni culturali importanti che dovremmo valorizzare per cercare anche lì di dare occupazione e sviluppo o comunque di intervenire su tutto il mondo del precariato che in questo momento attraversa un momento di forte crisi, ma anche sul mondo produttivo, come ho detto con queste norme che sono state fatte e con il fatto che la Sicilia possa avocare a sé le competenze legate appunto alle accise. Queste sole basterebbero in un solo anno a ricoprire l'intero deficit della Regione Sicilia per i successivi anni poter produrre. Quindi ribadisco la politica dell'essere e non quella dell'apparire. Cinque anni di battaglie, ma battaglie affiancate anche da incarichi di responsabilità attorno su questo aspetto perché lei è stato anche componente della terza commissione legislativa delle attività produttive, ma componente anche della commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia. Sulla mafia in Sicilia abbiamo prodotto come commissione, assieme al collega speziale e gli altri componenti, un disegno di legge molto importante che è la questione legata nell'ambito della riforma degli appalti, la possibilità di avere un conto unico per avere un maggiore controllo sull'attività delle imprese che purtroppo in Sicilia spesso la criminalità organizzata riesce ad intercedere. Proprio per liberare le imprese da ciò abbiamo fatto una norma molto importante, una norma che riguarda anche la possibilità di poter destinare i beni che sono stati confiscati alla criminalità organizzata, di destinarli per usi pubblici e quindi di pubblica utilità. Norme estremamente importanti, ne abbiamo proposto un ultimo disegno di legge, anzi un ultimo emendamento di cui assieme al collega speziale sono stato uno dei firmatari, che era quello legato a impedire affinché alcuni amministratori che sono stati collusi o corrotti o comunque alcune fattispecie giuridiche previste dal codice penale, non potessero fare parte degli organismi che riguardano le cosiddette società partecipate o comunque svolgere funzioni pubbliche nell'ambito della regione siciliana. E a tal proposito abbiamo fatto una norma molto importante che è anche una norma per il recupero dei centri storici, mai nessuno ci aveva pensato, così pure anche la norma sul credito d'imposta, quella che era stata fatta nel governo Prodi, io assieme al collega Lupo, collega segretario Lupo, al capogruppo dell'Assemblea regionale abbiamo portato avanti queste norme per cercare di dare aiuto in un periodo di difficoltà, poi come tutti noi sappiamo la crisi economica si è acuita e quindi abbiamo dovuto fare i conti con quelle che erano le risorse disponibili, perché la regione Sicilia ha un problema di deficit strutturale nell'ambito del proprio bilancio, ma ha una grande potenzialità di poter risanare questo deficit strutturale. Bisogna cominciare a voltare pagina e non è retorica, ma occorre mandare messaggi chiari sulle cose possibili, bisogna destrutturare questo bilancio della regione, che è un bilancio della regione cosiddetto tecnicamente a norme variate, nel senso che non si possono fare norme di spesa e utilizzare bene i fondi comunitari, in particolare potenziando le infrastrutture di cui la nostra provincia in particolar modo ne ha grande bisogno. Onorevole, tracciato questo breve bilancio su quello che è stato il suo impegno nella quattordicesima legislatura, mi verrebbe da chiederle, la Sicilia paga danni lo scotto di una cattiva, di una errata strategia di sviluppo economico, secondo lei cosa occorre oggi alla Sicilia per non ripetere gli errori del passato e per una programmazione unitaria? La Sicilia paga danni in particolar modo da 30 anni di una politica dove sono state create aspettative che spesso sono diventate illusioni, dove purtroppo ahimè la pubblica amministrazione, ma per scelte politiche che non sono solo ad addebitare alla classe politica dirigente della regione Sicilia, ma quelli eletti in Sicilia che sono stati anche al Parlamento nazionale, nel senso che si è pensato a un'economia assistita e non a un'economia di carattere, di sviluppo delle imprese e del mondo produttivo. Una delle prime scelte sbagliate è stata fatta quella di non pensare mai o pensare in maniera residuale alle infrastrutture, ne deve essere un vanto, l'amministrazione Vivacqua progettò un tratto di autostata, la 640 che è stata fatta, ebbe quella lungimiranza di avviare questo percorso che poi alla fine sta diventando una realtà, così pure poi successivamente la provincia di Caltanissetta, quindi il completamento delle infrastrutture e l'utilizzazione delle infrastrutture, non solo quelle legate alla disponibilità dei cosiddetti fondi fassi che sono stati diventati una chimera, ma delle risorse comunitarie, spesso la regione Sicilia non riesce a spendere le risorse, allora lì bisogna cambiare marcia, fare in modo che finalmente si possano utilizzare, ben utilizzare queste risorse comunitarie, anche perché siamo nell'area di convergenza e dobbiamo approfittarcene, nell'area di convergenza lo dico anche per i non addetti lavori, una sorta di area sottosviluppata ex obiettivo 1, dove l'utilizzazione dei fondi comunitari potrebbero essere una nostra grande risorsa, così pure questo lo può essere nel piano delle infrastrutture, nel piano del mondo delle attività produttive. Alcune di quelle leggi che sono state fatte all'inizio molti colleghi parlamentari criticavano anche il perché si facevano norme di questo tipo, secondo me se si danno risposte al mondo imprenditoriale, al mondo delle associazioni, al mondo delle imprese più che imprenditoriale, si riesce a creare sviluppo e occupazione, occupazione che possa essere stabile e che possa essere un'occupazione anche di prospettiva, valorizzando le nostre risorse. Quando noi interveniamo nel mondo della filiera agroalimentare, mi riferisco alla pesca, all'agricoltura, agli ittico-conservieri, con la possibilità di utilizzazione del cosiddetto medio credito agevolato, considerato che le banche in Sicilia di fatto hanno fatto una politica in cui raccolgono i risparmi in Sicilia e poi gli investimenti li vanno a fare nel nord del paese. Abbiamo un po' cambiato pagina rispetto alle misure del credito per questo segmento di filiera, spero che ciò avvenga anche negli altri settori ed era questo l'auspicio di quel disegno di legge sul medio credito Sicilia. E a proposito di auspici, lei in questa nuova campagna elettorale parla di una Sicilia migliore, di una Sicilia moderna, di una Sicilia diversa. Quali sono i punti di forza di questo suo nuovo programma? Noi vediamo da due esperienze, ahimè negative, sappiamo bene come sono andate a finire, il precedente governo e l'ultimo governo, questo preseduto dal Presidente Lombardo, andiamo ad elezioni anticipate. Abbiamo voluto mandare un messaggio di serenità e di rassicurazione al popolo siciliano, scegliendo uno giudicato fra i migliori amministratori della Sicilia nel Comune di Gela, è stato tanti anni sindaco e che ha svolto bene le funzioni di europarlamentare in questi anni. Questo già è un messaggio nuovo, noi vogliamo aprire una pagina nuova assieme ai progressisti, assieme ai moderati, tant'è che abbiamo chiesto e fatto un'intesa sul piano politico con l'elettorato moderato, con i partiti moderati, perché questa partita noi la vogliamo giocare per proporre un progetto politico, riformista, che guarda agli interessi della Sicilia e dei siciliani. Non è una parola che possa essere retorica al progetto riformista, progetto riformista appunto perché bisogna incidere nel tessuto socio-economico di questa nostra Sicilia, bisogna cercare anche di rinnovare questa classe dirigente e io dico rinnovarla anche a partire all'interno del gruppo dirigente dei vari partiti, a partire dal mio partito, dal partito democratico, che spesso come sol dire c'è una logica perversa di meno siamo meglio è, demolendo i medicentri, io sono perché più siamo meglio è cercando di potenziare tutte le singole comunità che fanno parte di questa nostra provincia, di potenziare, di dare un ruolo, di avere la presenza e la vicinanza costante alla gente. Io in questi anni l'ho fatto nell'ambito delle mie conoscenze, perché c'è chi nella vita politica fa la politica per mestiere e c'è chi come me fa la politica perché si vuole spendere per servizio nei confronti della propria comunità e per questa ragione anche ho curato forse poco l'apparire, ma molto l'essere nell'esercizio del ruolo di una funzione che mi è stata delegata dai concittadini di questa provincia ed è con questo spirito che io voglio proseguire questo percorso nell'interesse generale di questa provincia per cercare di cambiare pagina in questa provincia, di evitare che all'intorno di un tavolo 4-5 pseudo dirigenti si siedano e stabiliscano le sorti di questa nostra provincia, spesso non guardando all'interesse generale del tessuto socio-economico di questa provincia. Di fatto le risposte le bisogna darle, bisogna dare anche forza e coraggio ai giovani, perché in questa Sicilia si producono le migliori intelligenze e dobbiamo evitare questa fuga di cervelli. Negli anni passati andavano via coloro i quali avevano la terza media o il diploma, oggi vanno via coloro i quali hanno una laurea e un dottorato e chi vi parla che nella vita personale e professionale svolge l'attività di docente universitario, lo vuole rassicurare i giovani anche il rispetto a una possibilità, che in questa Sicilia bisogna spendersi in primo piano, bisogna dare risposte concrete, lo si può fare, occorre voglia, occorre che le sinergie, le progettualità vengano messe a fuoco e che dall'altro lato si investa in questa Sicilia. Dobbiamo evitare che i cervelli di questa Sicilia, tutte le grandi professionalità che questa Sicilia produce vadano via da questa terra. Onorevole, mi sembra di capire che lei sia abbastanza vicino al mondo giovanile, vuoi per un fattore anagrafico, vuoi anche per la professione che lei svolge, ma le vorrei chiedere quali sono alla luce anche della sua esperienza professionale, le maggiori difficoltà in cui si imbattono i giovani laureati, i giovani specializzati di oggi? Guardi, io innanzitutto pur essendo stato collocato in aspettativa d'ufficio in questi anni, per ragioni parlamentari, in questi anni ho continuato con autorizzazione dell'università ad insegnare, ad essere a contatto con i giovani e in particolare a formare i giovani. Sul piano della preparazione, sul piano delle professionalità, rispetto alle cose che ho detto poc'anzi, i nostri giovani sono fortemente formati, ma a me si deve fare un maggiore investimento nella conoscenza delle lingue, per cercare se per esempio si vuole lavorare nel mondo imprenditoriale, se tu non conosci bene la lingua inglese, la lingua francese in particolar modo, non riesci a fare il manager in una multinazionale o in una società che vuole commercializzare il prodotto, siccome ormai il mondo è globalizzato, il processo è globalizzato, non bisogna più guardare il vicino di sotto casa, ma bisogna cercare di, perché noi abbiamo prodotti di qualità, abbiamo le migliori eccellenze che vanno valorizzate, ma vanno anche bene allocate nel mercato. Onorevole, in chi vuole un avvolto diverso della Sicilia? Che ruolo ha la pubblica amministrazione? Ahimè la pubblica amministrazione ha in questi anni, purtroppo c'è una sorta di appesantimento, perché? Lo dico con estrema franchezza, con estrema chiarezza, spesso i bandi comunitari all'interno dei vari enti locali, non c'è un apposito ufficio che istruisca, perché sono le risorse vere, quelle disponibili, quelle che si possono spendere con molta facilità, ovviamente finalizzate alle singole misure di intervento. Per esempio la pubblica amministrazione spesso non tutti i comuni o non tutti gli enti locali, quindi anche gli organi sovracomunali hanno un apposito sportello che si occupa dell'utilizzazione dello studio e quindi della preparazione delle progettualità per l'utilizzazione dei fondi europei. È un'idea, quella della regione, di cercare di attualizzare quella che è la legge 10, di trasferire le competenze ai comuni e di istituire in maniera ordinata la cosiddetta conferenza dei servizi, perché nella pubblica amministrazione spesso ci sono quei lacci e quei laccioli legati alle autorizzazioni. C'è lo strumento della conferenza dei servizi ed è questo uno dei punti importanti di programma del nostro candidato Presidente, del mio partito, del Partito Democratico, che io ho sposato appieno quello di costituire in maniera settimana per settimana una sorta di conferenza dei servizi permanenti rispetto alla possibilità di dare alle imprese, di accorciare i tempi della burocrazia per cercare di ottimizzare al meglio i tempi e quindi anche le risorse e gli investimenti. Il sistema sanitario regionale secondo lei al momento dispone delle risorse umane e strutturali per migliorare se governato con una logica diversa? Guardi, anche lì siamo intervenuti attraverso la riforma del sistema sanitario, abbiamo diminuito il numero delle aziende, abbiamo cercato di centralizzare i cosiddetti centri di eccellenza perché non basta l'ospedale sotto casa, è importante l'ospedale sotto casa ma è importante che anche sul piano tecnico e qualitativo sia efficiente e che ci siano le dotazioni anche sul piano degli strumenti, delle attrezzature necessarie per cercare di dare la maggiore sicurezza e tranquillità di ogni singolo cittadino che va a recarsi all'interno degli ospedali. E' una riforma che abbiamo posto in essere e che ovviamente è stata anche per certi versi dolorosa ma dall'altro lato era una riforma resasi necessaria a causa del fatto che spesso si spendevano molte risorse, quindi le risorse bisogna spenderle ma bisogna anche saperle finalizzarle sul piano della qualità. Dobbiamo evitare appunto questo fatto che molta gente per andarsi a curare deve andare fuori dalla Sicilia. In Sicilia si può fare anche buona sanità, per certi versi alcune volte in alcuni settori, alcuni segmenti è stato fatto, esistono dei centri di eccellenza, vanno potenziati i centri di eccellenza ma va anche data assistenza al territorio. Onorevole, per chiudere questo nostro spazio, sinteticamente quali sono i punti di forza di un programma, il suo programma, che punta ad una Sicilia diversa, ad una Sicilia migliore, ad una Sicilia moderna? Perché è proprio moderna la Sicilia auspicata da lei e quindi dal suo programma? Occorre cercare di fare in modo che le risorse vengano spese bene, che le imprese abbiano quella tranquillità nell'accesso al credito, negli investimenti ma anche attraverso la creazione delle infrastrutture, la possibilità di collocare con una certa celerità il prodotto nei mercati non solo siciliani ma anche nei mercati esteri, quindi completamento dell'area di tutto ciò che riguarda le infrastrutture in Sicilia e questo si può fare attraverso l'utilizzazione di questi fondi comunitari, che è obiettivo dell'utilizzazione degli stessi, è quello di dare risposte concrete alle imprese, perché nel momento in cui le imprese crescono i loro fatturati ovviamente l'occupazione cresce. Con questo è tutto, termina qui questo nostro spazio di approfondimento, ringraziamo l'onorevole Vincenzo Marinello, candidato del Partito Democratico per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Grazie a voi.